Si narra la storia del libro di Qtul, comunemente chiamato il Necronomicon. Tutto ebbe inizio nel 1990, quando gli scavi presso il tempio di Qut al-Mahra, una città nell'Iraq sud-orientale, portarono alla luce alcune tavolette di argilla scritte in antico sumero, che furono denominate le tavolette di Qutu. Queste tavolette rievocano rituali di magia sumera che permettono agli spiriti dell'aldilà di possedere il corpo dei vivi e dei morti. L'amasta Azzak Azzak Yogurt Astur Yarnatota Shubnugart Cthulhu Azzak Azzak Iarnatota Azzak 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 Era solo un maledettissimo sogno. La sedia d'ondola. E tu? Che cazzo hai da guardare? 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 Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Grazie a tutti